Rudolf era così, questa era la conna di Rudolf, uno solo, ecco, ma come mai Rudi, tu hai fame vero? Rudi adesso vediamo un attimino cosa abbiamo di buono, ecco qui, vediamo un attimino Rudi, ecco qui, oh che fame c'ha, oh che bravo, allora il primo anno aveva solo una conna, perché Rudolf era un po' un furbacchone, ecco, ed ha perso la seconda litigando con un'altra renna, ma non c'era nessun problema, perché l'anno prossimo sono ricresciuti, ecco, vediamo qui, proprio le conna del 2004-2005, ecco qui, vedete? E poi ogni anno sono ricresciuti si sono aumentati di punte e sono, proprio sono diventate veramente maestose e vediamo anche quest'anno Rudolf, ecco, che porta ancora il pelo sopra, sopra le corna, perché le torna sono, sono ancora in crescita, adesso, adesso, adesso dov'abbiamo, Rudi, Rudi, bravo, ecco, a qualche settimana, a qualche settimana, sta perdendo anche questo pelo, ecco, perde questo pelo, e per quello poi rimane l'ossa, ok? Come vediamo qui, rimane l'ossa e poi da dicembre a gennaio, nuovamente, lascia cadere le corna, e l'anno prossimo li vediamo poi lì a saccare. Eccolo! Grazie a tutti.